Carlo Parlanti Gli statunitensi sono orribili, i due problemi più grossi che ci sono sono il sovrappopolamento e la violenza. Le risse anche con conseguenze gravi sono all'ordine del giorno. I poliziotti dentro i carceri vanno in giro con quello che a noi sembrerebbe una tenuta antisommossa. Bombe lacrimogene, manganelli a scatto, una cosa letteralmente sconvolgente. Dopo anni e anni di così tanta violenza intorno ci si comincia a fare un pochino l'abitudine, si diventa un pochino disumani noi stessi. La ferita è più grande ora e anche un'altra. Ci sono connazionali che sono in questo momento negli Stati Uniti a scontare pene a 25-30 anni di carcere, duro, con prove simili a quelle che hanno utilizzato contro di me. È questo che continua a mantenere vivo l'incubo dentro di me ed è il motivo per cui sto continuando a lottare con tutto me stesso.